Buongiorno e benvenuti. Oggi ci troviamo a Castelnuovo e più precisamente in zona San Savino e in questo residence esclusivo di recente costruzione vi voglio presentare tre attici con terrazzo posti al secondo e ultimo piano. Andiamo a scoprirli insieme. Eccoci all'interno. Qua ci troviamo sul valo Scala da cui possiamo raggiungere tutte e tre le unità che abbiamo in vendita. Sono tutte composte allo stesso modo. L'ingresso in un ampio soggiorno che dà sul terrazzo, una cucina abitabile, due camere entrambe matrimoniali e un ampio bagno. Vi ricordo che tutti e tre gli appartamenti sono accessoriati di pannelli fotovoltaici con pompa di calore, isolamento sui muri esterni, infissi ad alto risparmio energetico e tetto in legno con tra via vista coibentate. Inoltre c'è la possibilità per ogni unità immobiliare di acquistare un posto auto privato a parte. Per maggiori informazioni o fissare la tua visita privata chiamaci al numero qua sotto oppure passaci a trovare a Castelnuovo in via 25 Pile 17. Ti aspettiamo! A presto! Grazie!